Siamo con il prof Danilo Ambrosio, preparatore atletico della San Miscelle. Allora Danilo, oggi abbiamo visto la San Miscelle che ha corso, merito tuo? Sì, diciamo di sì. A parte che la squadra oggi l'ho vista bene, ma sono già 3-4 partite che stiamo giocando bene, sia a livello atletico che di squadra. Oggi più delle altre partite, anche che grazie al campo, la squadra ha fatto quello che ha chiesto il mister, infatti abbiamo fatto tante verticalizzazioni, potevamo fare qualche gol in più, però l'importante era la vittoria e per fortuna c'è stata. Sì, tu hai detto bene, il campo rende veramente al massimo per ogni giocatore, giocare qui al Giordano è veramente una gran cosa. Sì, al di là, poi noi proprio le partite in casa devono essere, il nostro campo deve essere il nostro fortino, noi dobbiamo cercare di vincerle, di vincere le più partite possibili per raggiungere appunto i nostri obiettivi e speriamo bene di vincerle quasi tutte qui in casa. Tu sei al primo anno qua alla San Miscelle, la scorsona eri, se non ricordo male, alla Vibonese. Sì, ero nella primavera, anche lì abbiamo raggiunto i play-off per la prima volta forse all'interno del settore giovanile e quest'anno qua gioia. Mi è piaciuto il progetto, i dirigenti, il mister, mi sto trovando bene con tutti, anche con la squadra che mi sta seguendo, nonostante comunque sono il più giovane rispetto ai giocatori, però lavoriamo bene dal martedì al venerdì e quindi i risultati si vedono e ci devono essere. Diciamo che seppur giovane il prof è seguito però, dai. Sì, 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 dai. Perfetto, grazie Dalì. Grazie a voi.